Dai dati dei Save the Children si evince che un neonato nel 2021 ha 13 anni di aspettanza di vita maggiore nella provincia di Bolzano rispetto a un bambino che nasce in Calabria. E' una differenza importante per quanto riguarda l'aspettativa di vita e anche le condizioni generali. Quindi esiste una importante disuguaglianza regione per regione che contraddistingue poi la sanità italiana non da ieri ma che si sta accentuando in questo periodo post pandemia. Infatti l'accesso alle cure mediche sia sulla medicina del territorio sia sulla medicina ospedaliera è secondo questi studi attuali anche a livello censi sempre più difficile con un maggiore ricorso anche all'out out-of-pocket che è cresciuto del 10-15% in questi ultimi anni. Quindi l'autonomia differenziata che è in discussione adesso in Consiglio dei Ministri può essere un provvedimento che secondo la Flamuceo può accentuare queste disuguaglianze. Bisogna quindi ritornare a quelli che sono i livelli essenziali di assistenza che sono rispettati solo nella parte del nord Italia e in qualche regione del sud ma che sono largamente insufficienti in gran parte delle regioni del centro sud. Livelli esterni di assistenza vuol dire prestazioni di base funzionali a quella che proprio la sopravvivenza all'individuo. Un individuo che nel 50% dei casi ha delle esenzioni per reddito cioè gente povera che ha il servizio sanitario nazionale come accesso alle cure o con l'identità civile oppure con patologia neoplastica. Patologia neoplastica che vuol dire un accesso dovuto e sistematico a prestazioni di radiologia, di gastroenterologia strumentali complesse con necessità anche di avere dei follow up dei controlli sistematici nel tempo. Per tutto questo per sostenere anche un qualcosa come un centro tra pianti che ha una sostenibilità semplicemente a carico del sistema sanitario nazionale, noi chiediamo che per prima cosa siano risolti i bisogni di base del cittadino e poi pensare un'evoluzione di quello che sistema sanitario nazionale.